Quali sono le note musicali? Le note musicali sono DO RE MI FA SO LA SI SI DO RE MI FA SO LA SI SI ripetono di nuovo DO RE MI FA SO LA SI La distanza fra una nota e un'altra è di un tono, tranne che fra MI e FA SI e DO in quella distanza massiva che può intercorrere fra due note e un tono. La metà di un tono è un semitono.